Marco Stabile, panino l'altro giorno all'espresso l'abbiamo mangiato un po' di corsa, oggi ce lo gustiamo di più. Dicci com'è fatto. Allora, intanto il pane è fatto con farina toscana, cavolo nero tritato e polvere di alghe dalla paniglia. E lo farciamo? Lo facciamo con farci e due corpi, un patello di triglia alla livornese, quindi triglie fresche, comodorino, prezzemolo, aglio, un docino di vino bianco. Della ricotta del Casentino montata per renderla più soffice e naturalmente il red del panino di San Daniele di Negoli. Vabbè, ovvio giustamente, quello che abbiamo assaggiato. Dopo veniamo a farne una bella degustazione live, vediamo l'espressione mentre si mangia. Vediamo che succede.